Ciao in questo video andiamo a creare come arredamento d'interno della nostra casa minecraft una vasca funzionante in un precedente video abbiamo creato una doccia funzionante un po' complessa in questo video invece andiamo a costruire una vasca funzionante semplice ma anche molto molto elegante cliccando il pulsante la nostra vasca si riempie cliccando nuovamente sul pulsante la nostra vasca si svuota io ti ricordo nel frattempo di iscriverti al canale cliccando su iscriviti poi clicca anche sulla campanellina e attiva tutte le notifiche a questo punto la sigla del canale e poi iniziamo a costruire la nostra vasca funzionante ciao sono Marco Vigelini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video entriamo all'interno del nostro bagno e in questa zona andremo a costruire la nostra vasca funzionante è una zona 3 1 2 3 per 5 1 2 3 4 5 poi devi farla anche in una zona più ampia o addirittura in una zona più stretta a questo punto andiamo ad aprire la solita cassa ma non prima di aver spento la nostra doccia funzionante che abbiamo ricostruito esattamente in un video precedente se te lo sei perso lo trovi sicuramente nella playlist che ti suggerisco a fine video allora apriamo la cassa prendiamo telaio, scala di quarzo, blocco di quarzo gancio a filo, distributore, un pulsante, un teschio di scheletro e poi questi oggetti li prendiamo successivamente adesso concentriamoci sulla costruzione e sulla struttura della nostra vasca prendiamo il telaio in mano mettiamoci da quest'altro lato e distruggiamo questi blocchi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 poi in questo modo mettiamo il nostro telaio 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con questa parte grafica rivolta verso la porta io ho preferito così piuttosto che non metterlo da quest'altro lato ok? però diciamo non è fondamentale poi a questo punto mettiamo in questo angolo il blocco di quarzo poi incominciamo a fare i bordi della nostra vasca 1, 2, 3, 4, 5 in questo punto un altro blocco di quarzo e in quest'altro nuovamente la scala di quarzo ora è il turno degli strumenti caratteristici di una vasca e cioè un rubinetto e poi una doccia che noi facciamo con il teschio di schedero guardate che bel effetto in questo punto metteremo il pulsante in quest'altro mettiamo il nostro distributore ora ritorniamo nella cassa perché ci serve sicuramente prendere il secchio d'acqua torniamo al nostro distributore e con il tasto destro mettiamo questo semplice secchio d'acqua all'interno del distributore tasto destro e vediamo che la nostra vasca si riempie tasto destro la nostra vasca si svuota adesso passiamo agli elementi decorativi prendiamo un vaso di fiori che non vi avevo messo all'inizio nel nostro baule iniziale quindi prendetelo vaso di fiori poi del bambù al suo interno in questa zona io ho preferito mettere dei cetrioli di mare mettetene quanti ne volete per simulare poi il deflusso dell'acqua che esce che va via dalla vasca guardate cosa succede quando io clicco il pulsante vedete sembra uscire da questo punto ecco esattamente in questo punto noi mettiamo una botola di ferro messa in quella posizione perché così viene sommersa guardate se succede se la mettete poco sopra guardate in questo modo tasto destro si avvia il deflusso dell'acqua però non riesce a sommergere la nostra botola di ferro quindi distruggete questo blocco botola di ferro allineata a questi due blocchi tasto destro sul pulsante ed ecco che la nostra acqua scorre e va via dalla nostra botola ultimo dettaglio i nostri asciugamani non c'è vasca senza asciugamani a questo punto prendiamo uno qualunque di questi telai standardo bianco e tintura grigia leggermente grigia impostiamo questa formazione del telaio ce ne prendiamo uno tanto siamo in creativa e ne mettiamo uno in questo punto e uno in quest'altro punto a simulare appunto degli asciugamani pronti per essere utilizzati all'interno della nostra casa fammi sapere se ti è piaciuto costruire questa vasca funzionante se ti è piaciuto iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto ed invita i tuoi amici a fare altrettanto è sufficiente cercare su youtube la parola a scuola con minecraft clicca su iscriviti poi sulla campanellina ed attiva tutte le notifiche adesso metti mi piace al video e non ti dimenticare di commentarlo io ti saluto per questo video ma se ti interessa costruire una doccia funzionante come quella che hai visto all'inizio di questo video allora clicca nel video che ti suggerisco tra un po' e continuiamo insieme a scoprire delle nuove cose su minecraft e continuiamo insieme a scoprire delle nuove cose suive